Ciao a tutti ragazzi, oggi facciamo il confronto tra due degli zaini più iconici di casa Ferrino ovvero il Ferrino Agile 35 e il Ferrino Triolet 32 insieme vediamo le differenze, soprattutto quando più senso utilizzare uno o l'altro Iniziamo come al solito a qualche caratteristica fornita dalla casa il Ferrino Agile 35 litri pesa 900 grammi che si può andare a ridurre fino a 760 andando a togliere un paio di parti è realizzato con un nylon ripstop ed è disponibile naturalmente anche nei versioni 25 e 45 e le rispettive versioni da donna il Ferrino Triolet invece pesa 1,2 kg si può andare a ridurre anche lui fino a 750 grammi è realizzato con due tipi di poliestere diverso in base alla posizione ed è disponibile anche nella versione da 25 litri e nelle rispettive versioni donna adesso che abbiamo visto qualche caratteristica iniziamo a vederne le differenze iniziamo come al solito dagli schienali quei entrambi hanno la tecnologia Hollowback System di Ferrino ma sono due schienali abbastanza diversi per intenderci il Ferrino Agile ha uno schienale fatto con della spugna che va a creare dei canali d'aria belli, grossi che ci riesce a tenere lo zaino sì vicino alla schiena ma non proprio attaccato in modo tale da riuscire a far passare abbastanza aria il Ferrino Triolet invece ha sempre delle scanalature per andare a far passare l'aria ma sono molto più piccole e lo zaino è letteralmente attaccato alla schiena e lo spazio tra lo schienale e la nostra zaino è praticamente nullo mentre sull'Agile un centimetro più o meno c'è quindi la grossa differenza è proprio dove andare a utilizzarli mentre l'Agile come vi dicevo 20-25 gradi riusciamo a utilizzarlo tranquillamente il Triolet ecco già quando troviamo 10-15 gradi a 15 gradi vi assicuro si suda abbastanza per quanto riguarda le fasce lombari qua abbiamo due grosse differenze soprattutto perché la fascia lombare dell'Agile non si può togliere è integrata con lo zaino mentre quella del Triolet sì ha un meccanismo molto semplice e si può togliere poi a livello di peso con entrambi possiamo portare tranquillamente 10 kg e a livello di feature su entrambi troviamo a destra una taschina dove poter portare qualche oggetto e nella parte di sinistra un anello porta materiale una grossa differenza ce l'abbiamo poi anche sugli spallacci perché gli spallacci dell'Agile sono abbastanza piccoli svolgono comunque un ottimo lavoro ma con una forma abbastanza risicata gli spallacci del Triolet invece sono abbastanza risicati nella parte superiore proprio dove fa la curva sulla nostra spalla e poi pian piano che scendono che arrivano sulla zona pettorale si allargano per andare a distribuire meglio il peso qui diciamo in generale che il Triolet è più pensato anche per portare nella parte superiore una corda proprio perché ci tenderà a scaricare meglio il peso sul petto continuiamo e parliamo delle parti posteriori di questi due zaino iniziando dal laterale diciamo che abbiamo due parti laterali abbastanza simili su entrambi troviamo due cingue, una parte superiore e una parte inferiore per andare a stringere gli zaini o per portare all'esterno anche del materiale la differenza sta nel tipo di tasca che troviamo per la borraccia sull'agile troviamo una tasca cosiddetta a rete quindi molto semplice invece sul Triolet troviamo una tasca a soffietto che va a stringersi attorno allo zaino nel momento in cui non la utilizziamo però comunque su tutti e due gli zaini possiamo portare su entrambi i lati due borracce quindi da questo punto di vista sono molto molto simili nella parte posteriore vera e propria è qui che abbiamo le grosse differenze innanzitutto il ferrino agile come vedete ha questa grossa tasca rete che potete portare tranquillamente dallo esterno una giacca comunque del materiale il Triolet invece nella parte posteriore ha la cerniera che gli permette di poterlo aprire dalla parte alta alla parte bassa cosa che l'agile non ha per intenderci nell'agile se dovete mettere degli oggetti nella parte bassa dovete poi svuotare tutto lo zaino per riprenderli nel Triolet vi basterà aprire la cerniera a livello poi difficile possiamo portare in entrambi due piccozze o due bastoncini considerato però che sull'agile abbiamo il porta bastoncini classico sul Triolet abbiamo il classico porta piccozza altro aspetto che entrambi possono poter portare nella parte esterna delle ciaspole per esempio e tutte e due sono compatibili con l'elme torre per poter portare un casco per quanto riguarda poi la chiusura superiore sono completamente diversi perché l'agile ha una chiusura molto classica con un cordino andare a tirare e chiudiamo lo zaino il Triolet invece ha una chiusura roll top che è dove guadagna anche 5 litri in più questa chiusura è sicuramente un pochino più pensata anche nel momento in cui andiamo a togliere il cappuccio perché sul Triolet il cappuccio possiamo toglierlo sull'agile invece no a livello poi di tasche del cappuccio sono uguali tutti e due hanno una semplice tasca nella parte esterna la cosa che invece contraddistingue il Triolet è che una volta tolto il cappuccio abbiamo anche una taschina nella parte superiore che va a sostituire quella che andiamo a togliere del cappuccio quindi diciamo che il Triolet da questo punto di vista ha una tasca in più per quanto riguarda il comparto acqua sono due zaini molto simili entrambi hanno la possibilità di poter portare all'esterno due borracce all'interno possiamo portare una vescica con la possibilità di far uscire la prunga sul davanti nessuno dei due ha il rain cover entrambi sono un pochino idro repellenti data dalla natura del materiale ma con entrambi se prendiamo una bella nevicata o una bella pioggia la roba all'interno ci si bagnerà sicuramente per quanto riguarda i materiali come vi dicevo abbiamo due tipi di materiali abbastanza diversi ma quello che li accomuna è che comunque sono dei materiali veramente strong soprattutto nei momenti in cui andiamo a strusciare contro delle rocce nei momenti in cui andiamo a strusciare anche contro delle pareti belle appuntite devo dire che dal punto di vista dei materiali sono sicuramente due zaini che andranno avanti nel tempo e non avrete problemi di strappi o usura dello zaino ma arriviamo a capire dove vanno utilizzati questi zaini perché qua la grossa differenza il ferrino agile è uno zaino tutto fare lo possiamo utilizzare dal trekking all'alpinismo è uno zaino che va bene sia per del trekking ma magari non troppo estivo perché comunque rispetto a uno zaino da trekking è vero e proprio lo schienale fa sudare un pochino di più perfetto per la via ferrata e va bene anche per fare del facile alpinismo quindi diciamo uno zaino abbastanza polivalente un po' tutto fare il trolley invece ve lo posso consigliare sia per la via ferrata anche se comunque d'estate farci una via ferrata con questo che è sicuro lo schienale vi far sudare tanto ma soprattutto lui è uno zaino veramente solo pensato per l'alpinismo alpinismo tecnico dove dobbiamo portarci dietro corda, piccozze dove abbiamo bisogno di uno zaino bello slanciato che ci garantisca anche una buona distribuzione del peso eccetera quindi diciamo che l'agile è veramente potete prendere come zaino tutto fare e utilizzarlo tutto l'anno il trolley invece è solo uno zaino d'alpinismo e vi sconsiglio di utilizzarlo al di fuori di questa disciplina e detto ciò ragazzi io ne ho speranza sia stato esaurente e esaustivo anche per questa recensione vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao